E' una tradizione che va avanti da quanto tempo, la celebrazione della festa della Madonna dei Fiori? Allora la festa della Madonna dei Fiori, quest'anno sono 66 anni, è stata celebrata la prima messa 65 anni fa come dicevo per un ringraziamento in quanto qua nella nostra frazione c'erano orti, fiori, pesche e frutta e quindi si è voluto dire a fine raccolto, ad agosto, facciamo una messa di ringraziamento per il buon raccolto. Ci siamo spostati in località Terra Rossa Colombo e ci troviamo all'interno dell'oratorio dedicato a San Giuseppe. Questa è stata costruita nel 1705 perché purtroppo la parrocchia di Mocconesi era solo lassù in alto, non c'era la parrocchia in basso. Allora c'era questa chiesetta qua e un prete che diceva le messe o quando era necessario curava la chiesa. Questa festa qui ci siamo sempre rimasti legati perché anche quando eravamo piccoli alla novena venivamo giù alla sera qui c'era tutto un prato, ci facevamo, era una gioia, era proprio diciamo una cosa sentita proprio da tutti. Ero piccola, aspettavo per mangiare la torta perché eravamo poveri e allora quando era San Giuseppe invitavo dei miei cugini, venivano, mia mamma faceva la torta, poi si accontentavamo di andare a messa e al vespro perché non c'era niente. Quale percorso viene indicato in una cartina e poi rappresentato in queste tavole? Dunque il percorso parte da qua, detta via del pane perché attraversando il lavagna sul ponte del Fieschi che è del 1200 e arriva su a Tribogna, poi fino a Calcinara, in Cornua e poi scende a Quinto. In effetti era il percorso che facevano gli avi di Colombo. In effetti era il percorso che facevano gli avi di Colombo.